Presidente, qual è il punto della situazione in questo suo giro, in questa giornata? Intanto abbiamo messo insieme tutte le segnalazioni di comuni, genio civile, protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. Ci risulta ad oggi un numero pari a 45 comuni interessati da danni, lesioni e crolli in ragione del terremoto del 30 di ottobre. Abbiamo qualcosa come 2.000 sfollati, ma che comunque è sottoposto ad ulteriore verifica. Di questi 2.000 molti hanno trovato sistemazione negli alberghi, nelle strutture sportive pubbliche, alcuni presso parenti e familiari e qualcuno è rimasto in macchina anche per presidiare i beni che non avevano più custodia delle proprie abitazioni. Sono venuto a Civitella e anche a Montorio per fare una stima diviso dei danni riguardanti i beni pubblici di valore identitario. La fortezza Civitella, per esempio, o due chiese importanti al centro storico di Civitella, o il palazzo della famiglia Ascesi. Così come andrò adesso a Montorio a verificare, ma anche a Campli. Quello che rendo certo, dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, dove sono stato per due ore in presenza di tutti i ministri, è che tutti i danni verranno ricoperti finanziariamente. L'importante è che ci sia un rapporto causa-effetto col terremoto del 24 di agosto e del 30 di ottobre.